Ci sono ancora 450 posti disponibili per i soggiorni estivi a Mare Chiaro. Anche quest'anno l'assessorato al welfare realizza il progetto rivolto a bambini e ragazzi napoletani. Fino a settembre il Servizio Politica Infanzia e Adolescenza organizza nove settimane di soggiorno nel centro polifunzionale San Francesco d'Assisi di Mare Chiaro per utenti provenienti da tutto il territorio cittadino e segnalati dai centri di servizi sociali territoriali e dalla ludoteca cittadina. I partecipanti di età compresa dai 6 ai 14 anni saranno suddivisi per fasce omogenee di attività da lunedì al sabato. Intanto sono già stati formati i peer tutor, i fratelli maggiori, ragazzi dai 15 ai 18 anni che affiancheranno gli operatori nella cura dei minori accompagnandoli nelle attività esperienziali e formative oltre a quelle ludiche collegate anche al centro della gaiola ed a quelle laboratoriali. Per iscriversi bisogna rivolgersi al centro di servizi sociali della propria municipalità oppure chiamare gli uffici del centro polifunzionale di Mare Chiaro ai numeri qui indicati. Inoltre sempre nel centro polifunzionale di Mare Chiaro sono partiti altri due progetti che fino a maggio 2017 daranno la possibilità ai ragazzi dai 12 ai 18 anni di frequentare laboratori di produzione cinematografica, mountain bike, graffiti, web tv, arte sostenibile, eventi e scambi culturali. Grazie. 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 Grazie.